Ciao a tutti i gamers, noi siamo Sara e Gianmarco, i gameslovers Oggi siamo di ritorno con un video spacchettamento di Paradosso Temporale E ragazzi andremo ad aprire il secondo Elite Il secondo Elite, esatto Che è? L'Elite di Luna Ruggente Esatto Di Paradosso Temporale di Luna Ruggente Sfondo Azzurro e Luna Ruggente giallo Bello, molto bello Pokémon del passato di Salamence, praticamente, palesemente Salamence E nello scorso video abbiamo aperto quello di Eroa Ferreo Esattamente, dove ha vinto Sara Ho vinto io, trovando due galleri Mamma mia che schifo Ma prima di vedere dove acquistiamo le nostre carte Le acquistiamo su barutscard.it Che è un e-commerce online Che oltre a Pokémon tratta anche altri giochi di carte Come Dragon Ball, One Piece, Yu-Gi-Oh, Flash and Blood e Digimon Ma anche accessori Come sleeve protettive Album Fogli per gli album Ma anche gadget Mi raccomando Iscrivetevi al canale Telegram Per non perdervi le offerte Ma intanto anche per ricevere un buono sconto e il benvenuto E di iscrivervi anche alla newsletter Sempre per ricevere un codice sconto Vi ricordo anche che a ogni acquisto che effettuate dal sito Potete aggiungere un codice promozionale Proprio al momento dell'acquisto E-Games Lovers 5 Dove potete avere un ulteriore 5% di sconto Sui vostri acquisti Vi lasciamo comunque il link del suo sito sotto in descrizione Allora, anche qua il libricino Ma stavolta con Luna Lugente Decisamente più bello Sì, molto bello Le carte le abbiamo viste l'altra volta Ci sono le Terracrystal Di un tipo diverso del Pokémon Come appunto per esempio Oggi faccio un esempio Opa Iex Terracrystal Tipo lotta In questo caso Bello, molto bello Si ritorna un po' appunto Come un po' le specie Delta Esatto Che avevano un tipo diverso Un tipo diverso del Pokémon Raffigurato diciamo Le galleri Mamma mia L'altra volta c'è stata stra bene Che abbiamo trovato Jimmy Gowl Jimmy Gowl Una di quelle che volevamo trovare Jimmy Gowl E oggi volevamo trovare Goldengo Magari Con l'arte No, anzi Alternative Alternative art di Goldengo Che è, mamma mia Bellissimo Un cazzato nero O anche Groudon Avete visto la carta di Groudon Che è bellissima Non c'è Chiogri Non so perché No, affatti Si è solo Groudon Non compagni Vediamo se stavolta ho vinto io Maledetto L'ultima volta ho vinto io Due anche se Che così Due galleri Però diciamo che Potevamo aspettarci qualcosa di più Perché comunque due galleri Sono abbastanza Si, una Iex Una Iexterracrystal Si, esatto Esatto Ok ragazzi Allora andiamo All'apertura dell'Elite Troviamo Vabbè Il solito Divisorio Qua Nelle cose Vediamo come l'hanno fatto spesso Ah ho tolto anche le cose Le sleeve erano incastrate ragazzi Ah perché sono chiuse male Attenzione Le sleeve Chiuse male Ragazzi le sleeve Sono chiuse male Se le vedete Erano aperte Erano aperte Erano aperte le sleeve Attenzione Comunque Ok Perché qua Fallo vedere Già che sono qua Vi faccio vedere Tanto le sleeve Bellissime Rosse Bellissime Bordo rosso Sfondo azzurro Esatto Poi abbiamo Vabbè I nostri pacchetti Gli artwork Che li abbiamo visti Nello scorso video Abbiamo Sempre I dadini Stavolta rosso Non verde È rosso Esatto Molto bello Bellissimo Abbiamo sempre I segnalini Danno Scottatura E vengenamento Qui abbiamo I divisori Belli che sono Che sono diversi appunto Qua c'è Diciamo intero E qua è zoomato Nettamente più bello A me ci face molto di più Bellissimo Noi ragazzi Abbiamo sempre Preferito Dofan Esatto Mi sfugge il nome Grandi zanne Esatto Grandi zanne Grandi zanne Abbiamo sempre preferito Il pokemon del passato Grandi zanne Qua abbiamo Il pacchettino di energie Esattamente E qui ragazzi Come ultima cosa Ma la più bella Abbiamo La promozionale Di Coda Urlante C'è il codicino Via Ah giusto Che il codice E ragazzi Cioè guardate che bella Che è Aspetta ve la faccio vedere meglio La apro Perché questa merita È Coda Urlante Del tempo passato Bellissimo Quest'artwork Sembra quasi Cioè Su un altro pianeta Mettiamola lì Di sfondo E porterà fortuna Ok Speriamo di trovare qualcosa di più Come l'altra volta Esatto Ok Oh Tra garcia Tra garcia questo giro Ragazzi Perfetto Stavolta te uno in più Uno in più Io altra volta Va bene Vai Scegli te per primo L'altra volta Ok Allora Uno Due Tre E quattro Prendi quello in più E io prendo gli altri Quattro Ok Perfetto Quindi comincio io sto giro Iniziate Iniziate Vediamo se riesce a superare Cominciamo Subito con il pacchetto di garcia Mi raccomando Guardate Ne va tutto il video Perché regaleremo Un codice Anche in questo video qua Quindi mi raccomando Supportateci Il pacchetto è esploso Volato il pacchetto Il codice Via l'energia lotta E si vola No Ragazzi Un'altra volta Ma è un passo Infatti Onage Mai un altro set Orsi Mi ricordo Jolti Capsi Ragazzi Bello Eccolo lì Coda l'olante Attenzione Vedete ragazzi Hanno aggiunto questa nuova tipologia Di carta Esatto Questo è il tempo passato Con un pattern così Ora se troveremo Una carta Del futuro Del futuro Ci saranno dei pixel Attenzione Bello Professoressa Olim Del passato Anche lei Bellissimo Pansiar Primo reverse Crobat E in fondo Groudon Stavullard Bello Eh se era quella Alternative Bellissima Vai Ok ragazzi Allora vado con Il mio primo pacchetto Vada Vada Con l'artwork Di Arma Rouge Esatto Andiamo Ad aprire Andiamo a togliere Il codice Togliamo L'energia Dozza Di nuovo E andiamo Con Uh Knuckle stack Knuckle stack Nuovo Si Non l'avevamo trovato Nello scorso video No Plasol Plasol Dotlet Toxel Abbiamo explode Bello Explode Pruna Oh Ali la senti Ragazzi Tempo passato Bellissima Qua sotto c'è la dicitura Bellissima 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 Stupendo Bellissimi ragazzi Questi nuovi pokemon E questa nuova tipologia Di carta Anche se appunto Nel set Non c'è niente Di così Eclatante Che potrebbe essere C'è risaldo Un mutuo strano Qualcosa Ma ci sono Ragazzi Queste nuove carte Questi nuovi pokemon Che sono una cosa Milotic Bellissimo Bella Bello Bello Miloticolo Buono Buono Andiamo Con il pacchetto Di eroe ferreo Via il codice L'energia Eletro E andiamo Toad Skulls Bunny Light Charcadette Bello Charcadette Sua blu Garbodor Capsula energetica Al tempo del futuro Ragazzi vedete qua Ci sono tipo dei pixel Sì E questa è divisa a metà Sempre come quelle del passato Però appunto Con dei pixel Sul blu Sul nero Con scritto Tempo futuro In alto Corso destra Un po' Quella urlante Appunto ragazzi Vedete la differenza Vedete Di qua C'è questo pattern qui Di qua ci sono i pixel Tempo futuro Tempo passato Carina sta cosa Bellissima Si Ciu Attenzione Rara reverse Ragazzi Ci manca una sola Di queste leggendarie Uno soprattutto Perché Mining reverse E Collo ferreo Che cazzo L'altra volta Si l'abbiamo già trovato Trovato l'altra volta Trovato l'altra volta Ragazzi Infatti ragazzi Diciamo I tempi futuri Sono meccanici Invece Tipo Quelli del tempo passato Sembrano un po' Primordiali Nel passato Tip preistorici Esatto Tip preistorici Esatto Andiamo Con il pacchetto Di eroe ferreo Eroe ferreo Ok Perfetto Voliamo qui Togliamo il codice Vada Togliamo l'energia Fuoco Fuoco Porta la fortuna L'energia fuoco Sicuramente Lasciate tanti mi piace Perché ragazzi Aiutateci Supportate questi video Spacchettamento Perché Sono nuovi Esatto Tatsugiri Dondozo Vanish Prima reverse Macchinario Tecnico Spiazzare Mi ha spiazzato E Cienpao Di nuovo Anche Cienpao Anche Cienpao Ok ragazzi Andiamo Per l'energia Buio 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 Ragazzi Porterà fortuna Abbiamo trovato la doppia buio Vediamo Ok Andiamo con Vanilish Flamingo Octillery Magby Forigo Golbat Gregorio Ubaldo Tulipa Crocalore Attenzione Primo Primo frammento di starter Esatto Non avevo mai trovato Un spazzo di starter Niente Infatti Vediamo un po' Bambola Snorlax Oh Bello Tecnoradar Che cazzo di carta Bellissima Bella ragazzi Ah bella Pruma Questi nuovi Tipo Logie Si questo nuovo artwork Per le carte Del tempo futuro Tempo passato Sono bellissime Molto belle Ne hanno fatte davvero bene Frittle E in fondo Garganacle Deoxys Bellissimo ragazzi Hanno messo un po' di Un po' di leggendari Acazzi Leggendari Sparsi Deoxys Zekrom Mewtwo Molto 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 bene Ok Anche questi due pacchetti vuoti Esatto Andiamo a vedere Il prossimo Il prossimo pacchetto I prossimi Che è il mio ultimo Ah si Il mio penultimo Questo è il progetto Che oggi regaliamo Fateci sapere cosa trovate Togliamo l'energia Acqua e Psico Psico E andiamo Natu Bunny Light Ok Remorade Pankaboo Zubat Pensever Abbiamo Minior Chiappa Pokémon Interessante Minior è la prima volta Che lo troviamo Anche il tuo Anche il contracchiappa Esatto Croccalore Mascolo Non poteva essere Cazzo come Croccalore Eh appunto Non ci credo Ragazzi Siclizar Bello Bellissimo siclizar Tulipa Joltik Gargast Brava Aiuto Si Con le pronunce Poi abbiamo Stimi Klauf Belli 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 E per ultimo Zacchan Damazè No Stilix Ragazzi Zartan Anche Come leggendario Anche Zartan L'ho messo Non so Anche se è da mazenta Lo sai vero Non so Sai che mi serve No Come no Zartan Tantissimi leggendari Si tantissima marea Per ora Per ora Per le carte Importante Niente Cioè abbiamo ancora Un pacchetto Ragazzi Cioè se anche sto qui è vuoto Vuol dire che in 18 pacchetti Non c'è stata neanche un ix Zero Un po' grave come cosa Eh abbastanza Un po' grave Una galle Dammi un flamingo Dammi un di merda Ma almeno dammene una Fammi almeno gioire Esatto Via il codice Vediamo un po' come si va L'energia erba Quella che mi fume Se fumano quelli di Pokémon Company Uh Pronti Nuovo Wiglet Stesso discorso come un'altra volta Per Toad School Questo è un diglet Palesemente Ma non ha una forma diglet Wiglet Punto Fine Glygar Ok Carte nuove Bellissimo anche questo Bip blap Blipp bug Blipp bug Ok Fuocopo Attenzione Bello Attenzione Potrebbe essere la volta Di trovare Uh La capsule Anzitical Devo passato Esatto Scenario del professor Troom Bello anche questo Nuove Troom Troom ragazzi Non ne vedo più Tutte carte nuove Un'altra parte normale Magari c'è anche una carta Temponata dietro Eh magari Mien Shao Nacli Ok Abbiamo poi Zachan Trovato due secondi fa E Lo sapevi Una carta di merda Iax Finalmente Woders Bushlu Woders Ma un Shold Ma un Shold Iax Devo dire che È carina È carina È carina È simpatico Devi farlo vedere a loro Nel 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 C'era due Che erano In tre O in quattro Che era Radissimo Quindi è simpatico Meglio di quell'altro Che c'era C'era Bombardier Che era quella Ciccogna Con il colzo Con il culo No Meglio lui Sì Meglio lui C'era di meglio Gale di zero Però Un ex Un ex Ce la siamo portata a casa Meno male Grazie E tb E tb Vedi Molto carina Bene Ok ragazzi Allora hai vinto te stavolta Guarda Che cazzo Uno a uno La voglio anche vedere Un coschino Hai vinto te E Niente ragazzi Vi abbiamo lasciato un po' con Però ci siamo guardati Degli artwork Molto carini Carini Una serie molto carina Tempo passato Tempo futuro Bellissimi Con carte muove Niente di particolarmente Sì No No però Ci sta Nuovi artwork Nuovi pokemon E quindi per questo video Su paradosso temporale È tutto Vi ricordiamo di iscrivervi al canale Se non lo avete fatto Mettere mi piace Attivare la campanella Per essere sempre aggiornati Per quando uscirà Un nostro nuovo video E ci vediamo al prossimo video Spacchettamento Sì Ciao